Grazie a tutti Dirò solo molto brevemente la stazione della giornata L'altra volta avevamo cercato di presentare alcune proposte Prima avevamo ascoltato l'introduzione del professore che ci aveva proposto alcuni snodi concettuali rilevanti nell'ambito della didattica per competenze Nella seconda parte abbiamo perlomeno iniziato, perché poi il tempo come sempre non è mai generoso Abbiamo iniziato a presentare alcune proposte operative in particolare elaborate in questa scuola Oggi ripartiamo intanto ascoltando alcune osservazioni che il professore ha fatto a partire dai materiali che abbiamo presentato E poi in una seconda parte abbiamo invece pensato, c'è stato un incontro nel frattempo con i responsabili delle diverse scuole Abbiamo pensato di andare più in profondità su alcuni aspetti specifici legati appunto a questo percorso di lavoro E essenzialmente abbiamo individuato tre elementi su cui poi ci concentreremo Il primo riguarda la valutazione delle competenze sociali che rappresenta sempre un elemento un pochino più complesso La seconda rappresenta, è costituita dal rapporto tra competenze e inclusione Perché abbiamo confrontato, ci siamo resi conto che su questo punto ci sono un po' di problemi, un po' anche di malintesi E quindi cercheremo di chiarire un po' le cose E un terzo punto rispetto al quale attendiamo anche l'intervento di un collega della nostra scuola primaria Che purtroppo non può essere presente fin da subito, il collega Scarnavini Che introdurrà il tema della competenza e curriculum verticale Quindi quali passaggi tra la certificazione dei termini della scuola primaria e quella conclusiva al termine del primo ciclo Quindi dopo un primo aspetto di restituzione dell'altro intervento Questi tre momenti di discussione su questi tre aspetti Ovviamente tutto ciò che diremo, che proporremo sarà volutamente molto sintetico E oggi vorremmo proprio dare molto spazio alla discussione Quindi il diritto a non avere regole è per prendere troppo a meno Anche situazioni, casi, problemi che si sono proposti In modo che possiamo discutere insieme Sarà molto meno di interventi diciamo così frontali Vedete, ho anche presentazione ridotta proprio al minimo della scaletta Proprio per dare invece questo spazio di condivisione E in questo il fatto di essere anche un po' meno numerosi ci aiuta Perché possiamo sentirci più liberi di intervento Va bene, il nostro salutere grazie a lei Anche al professore che ha affrontato un viaggio in questa giornata abbastanza Poco, poco, così, gradevole E vi lascio la parola sul primo punto Bene, no? Buongiorno a tutti Sì, è questo per questo Io volevo riprendere Appunto, il dialogo interrotto la volta scorsa Nel tempo sono passati però due mesi Quindi, come dire, bisogna un attimo Forse, è così, no? Ricollocarsi nella situazione Ecco, cerco di farlo io Poi magari però Chiedo anche di integrare Se dico delle cose sbagliate La volta scorsa appunto Nella seconda parte dell'incontro I colleghi appunto Degli istituzionali ci obitano Avevano presentato Alcuni tentativi Diciamo, alcune bozze di sviluppo Di alcune delle voci Del modello di certificazione In funzione appunto Della costruzione di Lubriche valutative Per la valutazione di quelle voci E quindi Come supporto del lavoro Appunto Del processo di certificazione In particolare Gli esempi forse elaborati Erano tre Uno sull'ambito matematico Uno su Si orienta nello spazio Nel tempo Quella voce E un altro Racconto sulle competenze sociali I colleghi presenti L'erano quasi tutti presenti Anche la volta scorsa Sì Quindi È un filo Diciamo che si può riprendere Ecco In realtà io Si era poi concluso L'incontro Non c'era tanto il tempo Di Di parlarne insieme Peraltro Mi erano state proposte Le domande Perché Credo che Appunto Quelle domande Sulla sinistra Si In qualche modo Si rivolgersero Anche a me Allora Così Volevo provare A riprenderle Si dice La proposta Voleva affrontare In termini operativi Sennodi concettuali Esaminati Per quali aspetti È verificace E quali limiti Tra i tentimenti Dimostrano Espressa così Sembra quasi Come dire Questa seconda domanda Se diciamo Quali elementi Di Potenziale Criticità Ci possono essere Appare possibile Procedere in questa Pospettiva A quali condizioni Quali approcci Altre sui sono preferiti In termini Dei punti Che erano Stati richiamati Appunto Dai colleghi Che hanno Elaborato la proposta Niente Io provo A riprendersi Così Con qualche spunto Diciamo Appunto Cercando Di Idealmente Ricollegarmi A Il Lavoro Fatto La volta La volta Scorsa Per quale Aspetto Appare Efficace Ecco Io Mi ero Appuntato Questi tre Punti Peraltro Anch'io Sto facendo Questo sforzo Di richiamare Dei punti Che avevo In occasione Di quell'incontro Richiamato Lo spirito Di ricerca Nel senso Di Assumere Appunto Questa Proposta Della certificazione Appunto Come si diceva Anche la volta Scorsa Al di là Dell'adempimento Ecco Come occasione Per Come dire Sviluppare Un lavoro Di ricerca Sia didattica Su appunto Un lavoro Formativo Per competenze Il focus Sull'apprendimento Nel senso Di appunto Centrare L'attenzione Proprio Su Come possiamo dire Il riempire Di significati Quelle voci Che Sono presenti Nel modello Quindi Cercare Di fare Forse L'operazione Più Rilevante Che è Proprio Quella Di Come dire Riempirle Di significato Ecco Non assumerle Come Diciamo Esaustive Ma come Aspetti Non so Appunto Se orienta Dello spazio Del tempo Tutti Da Come dire Appunto Esplorare E capire Quale Apprendimento Dentro Di un gioco La globalità Dell'approccio Nel senso Che appunto Adesso Non so Se appunto Vi ricordate Poi in caso Si possono Anche Richiamare Alcuni Di quelle Bozze Come dire Proponevano Un approccio Molto largo Ecco A una valutazione Di competenze Che metteva in gioco Conoscenze Ma anche Strategie Ma anche Atteggiamenti Disposizioni Appunto Quindi Un approccio Appunto Olistico Globale Alla valutazione Degli apprendimenti In particolare Delle competenze Quali appunto Possibili Elementi Di criticità Ecco Mettiamolo in questi termini Perché ripeto Limiti Fra intenti La domanda La posta un po' Quali sono i punti Come dire Magari Su cui tornare Su cui io adesso Volevo cercare Anche velocemente Ritornare Ma ecco Riprenderei Un primo passaggio Forse avevamo già Anche la scorsa volta In qualche modo Richiamato Ripreso No? Cercando di inquadrare Un pochino Questa proposta Di certificazione Ridimensionare Il valore Della certificazione Io partirei Da questo punto Può essere Un pretesto Un'occasione Per sviluppare Appunto Un lavoro di ricerca Però ecco Come dire Evitando di Enfatizzarne Eccessivamente Questo aspetto Anche per quei rischi Che l'altra volta Scorsa volta Dicevamo Di Come dire Rafforzare Una sorta di Come dire Frattura Tra Il lavoro didattico E quello valutativo Cioè Accentuare ulteriormente Questa frattura Questa potenziale Frattura Che già C'è Appunto Enfatizzando Il compito Certificativo Il compito Il compito Il contativo Peraltro Di una scuola Di base Visto che parliamo Comunque Di Scuola del primo ciclo Questo anche A partire Vi ricordate Già la scorsa volta L'ho segnalato Dal fatto Di Assumere Appunto La Termina Anche Certificazione Come dire In un senso Più corretto Parlare Di una valutazione A valenza Certificativa Già l'altra volta Si evidenziava Il fatto che La scuola O meglio La valuta La certificazione Richiesta La scuola Non ha le caratteristiche Per essere Assunta In senso Forte Come Certificazione La presenza Di un soggetto Di parte Terza A cui affidare La valutazione La presenza Di standard Di riferimento Condivisi E definiti Quindi Non a caso Mi risulta Che anche Il Lavoro preparatorio Che è stato fatto In questi mesi A livello Di vista Reale Sulla base Anche Del monitoraggio Fatto Su La prima Sperimentazione Del modello Di certificazione Una proposta Che credo Sia stata Poi condivisa Anche se è rimasto Un lavoro preparatorio Che poi Visto il referendum Eccetera Non è poi uscito Diciamo Rimasto un po' congelato Una proposta Che comunque È stata condivisa Da quella Di parlare Di attestazione Non più Di certificazione Quasi Anche in questo caso Ad abbassare Un pochino Come dire I todi Rispetto al significato Da dare A questo Momento Quindi Ritimiamoci Ancoraggio Le 12 voci Ecco Questo è un punto Io Ce l'ho già tornato Parlando con i colleghi Appunto In particolare Del dopo i lani Non è forse Un punto decisivo No Però Il mio Suggerimento Lo richiamo Subito Con Lo spunto Il mio suggerimento Era quello Di Assumere Anche in questa fase In cui siamo Alle prese Con un modello Appunto Sperimentale Assumere Come Riferimento Per costruire Appunto Dei materiali Utili Al processo Certificazione Le competenze Chiave Più che Le 12 voci Che sono Riprese nel modello In realtà Appunto Come sapete Il riferimento È quello E al profilo E al profilo In uscita Presente Nelle Indicazioni Del 2012 Profilo Che è strutturato Sulle competenze Chiave Poi Nella fase Come dire Di costruzione Concreta Del modello Si è poi Come dire Articolato In 12 periodi Anziché In 8 Questo profilo Però In filigrana Ci sono appunto Le 8 competenze Chiave Questa distinzione A colori Che è presente Nella Zai Peraltro È mia Quindi non ha un valore Come possiamo dire È mia E Precede Il modello Stesso Io l'ho utilizzato Negli anni passati Per evidenziare Come dietro Il profilo Ci fossero In filigrana Le 8 competenze Rimane però Questo fatto Ecco Che Non è un punto Decisivo Però Come avevo evidenziato Considerato Che comunque Il modello È un modello Sperimentale E quindi potrebbe Anche subire Delle modifiche Nel momento in cui Viene messo A regime Considerato Che una Peraltro Delle Come possiamo dire Delle attenzioni Più ricorrenti Che sono venute Dalle scuole Che hanno Partecipato Al monitoraggio Era per quello Di semplificare Sia il linguaggio Sia la struttura Stessa Del modello Considerato Che Ripeto A livello Sostanziale Al di là Della struttura Formale Del profilo Il riferimento Vare Competenze Di Sia la Europea Il riferimento Era quello Di tenere Questo Come Il Ancoraggio Il riferimento Il richiamo Alle otto Competenze Europee Io peraltro Qui ci sono tutte otto Una, due, tre, quattro Perché sto utilizzando Appunto Non c'è il powerpoint Quello Mi sconfina Leggermente Le slide Saltano Diciamo I Parallelismi Tra le due Colonne In parte Comunque L'idea È comunque Chiara Eccolo Io a livello Operativo Ad esempio Quando mi capita Di lavorare Con le scuole O se gli aspetti Di dati Su quelli Volutativi In genere Propongo Una Articolazione Ad esempio Della comunicazione La madrelingua Distinguendo Il versante Della produzione Da quello Della comprensione Quindi Assumere Questa distinzione Perché mi sembra Che anche In termini di competenza Appunto Possa essere Rilevante Ecco Distinguere L'aspetto produttivo Quindi lo scrivere E parlare Da quello Ricettivo Di comprensione Appunto L'ascoltare A leggere E L'altra distinzione Che a volte suggerisco È quella Tra competenza Matematica E competenza Scientifico E tecnologica Che tra l'altro Sono già due Macro Come dire Ambiti Ecco E visto che c'è Una E Che li tiene insieme Potrebbe Mi sembra che possa Avere senso Tenere i distinti Detto questo Comunque Al di là Di queste Come dire Particolari Ecco Il punto Era di dare Un significato Forse Come dire Meno rilevante Alle dodici voci Ecco Volevo solo Riprendere Come Diciamo Come dire Come diciamo Elementi di significato Da cui parto io Che tendo a utilizzare io Nell'impancio valutativo Ecco Generalmente Si Riconoscono Come diciamo Concetti chiave Volti ad analizzare Appunto Un significato Oggetto Di valutazione Quelli che sono Diciamati Cioè A un primo livello Si tende a usare parole Come dimensioni O ambiti O criteri Che Su un piano logico In qualche misura Ci richiamano Un primo livello Di analisi Diciamo Di un certo oggetto In questo caso Il nostro oggetto Sono le famose voci O le famose Competenze chiave Però È chiaro che sono Come sappiamo Concetti Che ritroviamo Nell'impancio valutativo Anche in situazioni diverse C'è l'oggetto Può essere anche Un'automobile La qualità Di un'automobile Ad esempio Per richiamare Appunto Concetti valutativi Applicabili Ovviamente A situazioni più diverse Ecco A un primo livello Si tende a usare Termini di questo tipo Da dove la differenza Da dove la differenza Solitamente Che viene richiamata È il fatto che Concetti come dimensioni O ambiti Richiamano Come possiamo dire Un riferimento più neutro Cioè Un'analisi Del concetto Che rimane più neutro Che non richiamo La dimensione valoriale Ad esempio Nel caso Di un'automobile Delle dimensioni Potrebbero essere La carrozzeria Piuttosto che Il motore O Gli optional Cioè C'è dietro Un modello Di analisi Del nostro Oggetto Ma Rimane Dal punto di vista Delle di qualità Rimane neutro Cioè Tutte le auto Hanno una carrozzeria Tutte le auto Hanno un motore Invece La propria Criteria di qualità Tende a veicolare Un'idea Una dimensione valoriale Cioè Una determinata Idea di qualità Idea di automobili No? Quindi ad esempio L'eleganza delle forme Piuttosto che La compatibilità Con l'ambiente Devono essere Esempi di criteri Diciamo così Che in qualche misura Ritamano anche Un'idea di qualità Ecco Non sono Soltanto Un'articolazione Del concetto Ma Fanno riferimento A una certa idea Di qualità Di automobili O di apprendimento A un livello Appunto Più specifico Si tende a usare La sua termine Indicatore Proprio a richiamare Appunto Delle evidenze Osservabili Attraverso cui Poter Appunto Rendere Osservabile O delle dimensioni O dei criteri A un livello Ulteriore E poi Un altro termine Come dire Ricorrente Di valore Di standard Che tende a richiamarci Il suo significato Più proprio La definizione Di soglie Di accettabilità In base a cui Leggere Anche queste evidenze Questi indicatori Ecco Parlando di confusione Dimensione Indicatori Adesso non ricordo bene Però Forse Avevo conto Il fatto che O si usavano Come sinotini O come elementi Che in qualche Però magari Sono io Che non Probabilmente Non lo so Noi Nel nostro Modello Abbiamo cercato Di Tutto nasce Da Un doppio Significato Che si può Adeguire Alla parola Indicatore Nel senso che Noi abbiamo Associato Ad alcune Dimensioni Delle diverse Diversi profili Di competenza Alcuni Indicatori Disciplinari Che quindi Per cui Per La ricupera Valti Dall'assunitato Dall'assunitato Nel documento Di voi Perfetto Quindi La confusione Ma non è Non è una confusione Perlomeno Non è una confusione Di un altro concettuale Ma è una confusione Di Disciplinari Dalle parole Certo In genere Vengono Indicati A due livelli Differenti Di scomposizione Diciamo No? Sì 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 In quel caso Invece Vengono usati Come traduzione Una cosa Dell'altra Ma perché Si intende Quando è che Il ragazzo Dimostra Di Saper Con un'ossertazione Ad esempio Tutte quelle volte In cui Nella disciplina Scienze Fa delle attività Che poi Vengono valutate Attraverso Perché di tanto Ne osserva Quindi Adesso Prendetelo Come Uno sbaglio Esterno Ecco Ovviamente Guardando i materiali Mi avevo un po' Come dire Colpito Questo aspetto Volevo Sottolineare Il fatto Che di solito La parola Indicatori Richiama Un livello Di analisi Ulteriore Una sorta Di scomposizione Della dimensione Del criterio Nel senso Le proposte Che eravamo fatto Andavano in quella direzione Cioè dove Gli indicatori Non sono indicatori Altri Rispetto a quelli O meglio Non solo Indicatori altri Rispetto a quelli Che usiamo Ma anche quelli Che usiamo disciplinarmente Già nella nostra Valutazione Perché il tentativo Comunque è quello Di cercare Di E tenere insieme Laddove si riesce Si può tenere insieme E comunque Anche Cercare Di non Raddoppiare Continuamente Le cose Perché altrimenti C'è una roba Per cui poi Scusa Allora La distanza Che dice lei Assolutamente Continuitiva Adesso io Parlavo solo Di un aspetto Lessicale Peraltro Appunto Forse si potrebbe Ragionare Adesso Non sono neanche Presenti E concettuali Non sono neanche Presenti Con precisione Indicatori Che ad esempio Sono presenti Anche nel vostro Documento Però Adesso Lei mi diceva Che ad esempio Sono tre Per ogni Per ogni disciplina Ecco Probabilmente È già un po' Forzato Usare la parola Indicatori Perché è solo Un livello Di generalità Tale Che forse Più correttamente Potremmo parlare Di dimensioni Ma ripeto È solo per Utilizzare I termini Stiamo usando Nel linguaggio Valutativo Solitamente La parola Indicatori Richiama Appunto Una dimensione Di osservabilità Più analitica Più specifica Ecco Questo almeno Nell'uso Che appunto Ripeto Si tende a farlo Nel linguaggio Valutativo Valutativo In questo processo Di scomposizione Progressiva Diciamo Che è sottointeso Un po' A queste parole Criterio Indicatore Dimensione Dopodiché Il Come dire La giusta Misura Tra la scomposizione È da trovare È da trovare Perché ad esempio Io faccio l'esempio Per la matematica Che è il nostro Noi delle volte Scomponiamo Mostrosamente E poi dopodiché Non è più utile Non è più utile Perché ci sono degli aspetti Che non riescono a funzionare Perché non ne funzionano altri Che sono accanto E allora come si fa a dire Se non sa risolvere i problemi Perché non Se non lo sa fare Per un altro modo Non si capisce più Cioè bisogna stare attenti Sul livello di Esatto Assolutamente Sì sì Adesso sto raggiando Sui concetti Queste attenzioni Che lei pone Le trovo Assolutamente condivisibili Potenzialmente Gli indicatori Sono infiniti Dobbiamo partire Da questa idea Che gli indicatori Nel solo significato Di indizi Di osservabilità Di un certo fenomeno Potenzialmente Sono infiniti Quindi è chiaro Che ci vuole un problema Come dire Di fattibilità Di equilibrio E di Io volevo adesso Però sotto Ricciare il fatto Che Nel linguaggio Contativo I due termini Tendono a ricavare Due piagli Differenti Di scomposizione Perché era Soltanto stesso Il punto Che in questo momento Volevo riprendere Non torno indietro Perché Lo riprendo qui Livelli di analisi Da competenza È un altro punto Che avevo ricavato Che peraltro Adesso guardavamo Prima Appunto Le bozze Di rubriche Che sono state Appunto Elaborate Su quelle tre voci A cui facciamo Riferimento Prima Questi livelli Ci sono Sono presenti In queste bozze Io allora forse Le vorrei Soltanto Sottolineare Per richiamare Proprio A proposito Di dimensioni Ecco Alcune dimensioni Di analisi Di una competenza Che in qualche modo Sono sottese Mi sembra Anche Alle vostre bozze Allora forse È importante Esplicitarle Perché diventa Un punto chiave Forse questo Cioè Cosa significa Analizzare una competenza Qualunque essa sia Che sia Saper scrivere un testo O risolvere un problema O orientarsi Nello spazio Nel tempo O quant'altro Il punto chiave Diventa Se dobbiamo Vientirla di significato Quello dicevamo prima Cioè Non ci basta Richiamare la voce Come se fosse Come dire Autoesplicativa Ma il problema è Domandarsi Cosa significa Saper scrivere un testo O sapere risolvere Un problema Allora diventa Forse importante Condividere Appunto A quali livelli Può essere realizzata Una competenza Io appunto Di fatto Come dire Riprendendo Delle proposte Soprattutto Di Un autore francese Lepoterfe Appunto Che In qualche modo Richiama Questi diversi livelli Anche se Non esattamente Con le parole Che Adesso Forse io riprendo Io richiamerei Tre livelli Di analisi Appunto Di una competenza Il primo Ci riporta Appunto A quelle che Ad esempio L'epoterfe Chiama le risorse Cognitive E quindi Appunto L'insieme Di conoscenze E abilità Che sono Sottese A una certa competenza Per esempio Sape guidare Anche su questa competenza Possiamo Oggi sono Insisto Sui automobili Si vede Il treno Che ci ha messo Tanto Allora Forse Nel mio Immaginario Pensavo Strumenti Più Veloci Sape guidare Un'automobile Anche lì Un primo livello Di analisi Di queste competenze Ci può riportare All'individuare Del sapere Di saper fare Un insieme Di conoscenze La signaletica stradale Piuttosto che Non so Cos'altro Un insieme Di abilità Il sapere Accendere Il mio automobile Il sapere Girare a sinistra Eccetera Che possono L'assare il gioco Ovviamente A diversi livelli Un secondo livello Che richiamerei Ci riporta A I processi Cognitivi O operativi A seconda Del tipo Di competenza Di cui parliamo Che sono in gioco E che in qualche modo Caratterizzano La stessa idea Del mobilitare No? Orchestrare Integrare Sapete che In tutte le definizioni Di competenza In qualche modo La parola chiave No? Che viene Messa in gioco Qualcosa di questo tipo Cioè Mobilitare le proprie risorse Integrare le proprie risorse Mettere in moto Utilizzare No? Ecco Dietro a questi termini C'è proprio Un riferimento A quello che potremmo Che fare I processi Attraverso cui Compiere questa Mobilitazione Integrazione Eccetera Eccetera No? E quindi In qualche modo Questo secondo piano Ci richiama proprio Il sapere agire Cioè L'idea che la competenza Non è solo un sapere E un saper fare Ma è un saper agire Cioè Un mettere in gioco Le proprie risorse In un determinato contesto E allora Questo in qualche modo Come dire Sollecita Un'analisi Dei processi Attraverso cui Compiere questa Mobilitazione E questo Utilizzo Delle risorse No? Processi Che in questo caso Sono espressi Con termini Volutamente Molto generali Proprio richiamarci Comunque Alcuni passaggi Chiave Che Una mobilitazione Appunto Delle risorse Una logica Di competenza Mette in gioco Innanzitutto La lettura del compito Analizzare La situazione Che devo affrontare Per esempio Lo mirare l'automobile Può essere Il leggere La situazione In cui mi trovo A utilizzare Questa competenza Il tipo di automobile Il tipo di percorso Il clean Le condizioni Meteorologiche Altre situazioni Di contesto Insomma Saper leggere La situazione Che devo affrontare Collegato a questo L'attivare Delle strategie Che siano In qualche modo Appunto Che rispondono Al compito richiesto Quindi appunto Devo guidare oggi C'è il rischio nero Eccetera Quindi Se sai Cosa ti appennini Dovrò utilizzare Delle strategie Di guida Come dire Che tengano conto Ecco Di questo contesto Dentro qui E non solo Attraverle strategie Ma anche Controllarle Regolarle Autoregolarle E quindi Ad esempio La macchina Slitta lo stesso Quindi Devo In tempo reale Come dire Regolare le mie strategie In funzione Appunto Dele risposte Che il contesto Mi sta dando Ecco Ovviamente Sono Termini generali Devono essere Come dire Precisati In rapporto Alle specifiche competenze Che sia Risolvere i problemi Che sia Lo scrivere un testo Che sia Imparare Imparare O quant'altro Però ci richiamano Quelli che Secondo le poter Sono alcuni passaggi Chiave Nell'agire L'interpretare L'interpretazione Della situazione L'attivazione Di strategie La regolazione E il controllo Di queste strategie Un terzo livello È ancora più profondo Per certi versi Di analisi Di competenza Mette in gioco Quegli aspetti Che non sono solo Cognitivi Ma sono anche Di carattere motivazionale Sociale Pugnitivo Appunto L'ecoterca Dice Non c'è solo Saper agire Ma c'è anche Il voler agire O il poter agire Che ci richiama proprio Un'attenzione Ad elementi Che vanno oltre Della dimensione Strettamente Cognitiva Operativa In questo caso Ad esempio Sono richiamato Un terzo livello Con la parola Disposizione Che sapete È abbastanza presente Anche nel linguaggio Psicopedagogico E che dà bene L'idea Cioè Disposizioni Verso Cioè Quanto Sono nelle condizioni Di Mettere in gioco La mia competenza No? Quindi disposizioni Verso me stesso L'autostima La percezione Disposizioni Verso gli altri Disposizioni Verso il contesto In cui mi trovo Disposizioni Verso il compito Sono categorie Molto generali Che ci richiamano Comunque un'attenzione A questa dimensione Extracognitiva Che comunque Fa parte Della politica Appunto Il voler agire Appunto Il poter agire Ecco Io E peraltro È un'operazione Fatta anche Delle bozze Appunto Elaborate Dal gruppo Di ricerca Suggerirei Di Un'analisi Appunto Nella logica Della rubrica Che comunque Presuppone Un lavoro D'analisi Evidentemente Di un certo Traguardo Suggerirei Di fare Riferimento A questi Tre piani Di analisi Appunto Di una competenza Che In qualche modo Se ci pensate Ci richiamano Il famoso iceberg Visto dall'alto In qualche misura Cioè Piani che progressivamente Tendono ad andare più in profondità Anche No? Rispetto a Come vedere Un'esperienza D'apprendimento No? Che cosa Osservare Un'esperienza D'apprendimento Ecco Un Tanto Elemento Che volevo Richiamare Rispetto proprio A questo passaggio Un rischio Potenziale Criticità Il rischio Che In qualche modo Leggendo Quelle bozze Come dire Magari c'è piena Forse probabilità Di questo rischio Però Da osservatore Esterno L'ho comunque Evidenziato Un rischio Di Una sorta Di separazione Di frattura Tra le discipline E i progetti Trasversati No? Quasi come Se si veicolasse Anche se Ovviamente non è così Questa è una forza dura No? Quasi Un Come dire Accentuare Questo rischio No? Quasi come se Veicolasse il fatto Che Appunto Le discipline Ecco Sì Adesso sono degli spunti Ovviamente Comunque Le discipline Vanno Come dire A Intercettare E a Centrare l'attenzione Soprattutto sul primo livello E Gli altri livelli Siano in qualche modo Lasciati Appunto A quelli Che sono chiamati Progetti trasversali O O O Come li vogliamo chiamare Progetti didattici Questo lo volevo solo richiamare Perché è un rischio Nella scuola Molto forte Anche implicito No? Pensate anche soltanto Al fatto Come A volte Come possiamo dire Magari non viene Esplicitato Nell'implicito Però Spesso Di molti Docenti C'è l'idea Di dire Quando valuto Attraverso il documento Di valutazione No? Le discipline Do il voto Le discipline Valuto Le conoscenze Le abilità Prevalentemente Poi A fine ciclo Una tantum Valuto Le competenze C'è questo rischio Del doppio Registro Come se fossero Due piani Separati Invece Ecco Io volevo Sottolineare Un'idea Che anche L'altra volta Abbiamo evidenziato L'idea Che Il più possibile È stato Di vedere Come intrecciati Questi piani No? Cioè Le discipline Come strumenti Culturali Attraverso Che potenziare Le competenze E quindi L'idea Da cui ho parto È che sia Quando valuto La disciplina Voto O in altri modi Sia quando valuto Appunto La competenza Chiave In gioco Ci sono Tutte e tre Questi piani Cioè Un'idea Di apprendimento Larga Ci sono Di apprendimento Inteso come competenze Ci sono Questi piani Sì ma Voglio Giustissima L'osservazione L'esigenza In realtà Per come sono strutturate Lo che Sembra che ci sia Questa fruttura In realtà No Quello che Intendevamo dire È che Ci sono dimensioni Appunto Sommerse Prendo L'immagine Dell'Aide Che è molto più Difficile Intercettare Quindi Ci siamo Concessi Il lusso Per dire così Di osservare In maniera strutturata Questo tipo Di Dimensioni Questo tipo Di Sì Dimensioni Soltanto In alcuni contesti Che erano Quelli con più Docenti In comprensione Perché erano Più Sostenibili Non perché Pensiamo E la differenza Sta solo Nella Complessità E sistematicità Delle Ritualazioni Non perché Pensiamo Che ci sia Un modo Diverso Di insegnare Vada Avere Anzi Se Le competenze Diventano Come ha detto Cerini Recentemente L'ora di competenze E poi le discipline Fanno il loro corso Non impattano Per nulla Sul modo Di fare Scuola Però L'idea Di poter Rendere conto Di tutte le decisioni In maniera Generalizzata Ci è sembrata Poco sostenibile Sì E quindi Rispetto a questo Sarebbe anche interessante Sarebbe anche interessante Un attimo Trovare il tempo Magari Più là Di discuterne Nel senso Che Noi abbiamo Mettuto una storia Rispetto a questo Nel senso Che effettivamente La nostra storia Era che a un certo punto Le competenze Le eravamo valutate Proprio all'inizio Della ricerca Quanti anni fa Ormai Cinque Sei Facevamo Un'attività Con le rubriche Per tutti e tre I piani Eccetera Eccetera Io mi ricordo E facevamo La valutazione Trifocale Quindi c'era La valutazione La valutazione Degli osservatori Mettevamo su Delle cose Che erano Che il pensiero Di poter gestire In classe In classe Di 25 Questa cosa qui Diventa una cosa Veramente complessa Allora ci interesserebbe Riuscire a capire Anche come E sempre di più Riuscire a Valutare Anche In altri Anche Diciamo In ambiti Molto più Di classe Di materia Diciamo Durante Quelle parti Che sono più sommesse Che sono più difficili Da rintracciare In una maniera Che sia sostenibile Cioè Che sia una cosa Che si può fare Perché se non si può fare Poi finisce che non si fa E quindi Rimane un po' così Ma io riprenderei La riflessione Facciamo la volta scorsa Mi pare di ricordare Cioè Attenzione Cioè Cioè È importante Che La valutazione Poggi su No Intanto volevo Richiamare un punto Ecco Rispetto Diciamo A questi elementi Che dicete Voi Sono elementi Di significato Quindi voi dite Ci sono delle consapevolezze Su questo Io dicevo solo Attenzione a vincolare Questa cosa Cioè Perché Il modello Tende a vincolare Questa cosa Capito Al di là Diciamo Delle intenzioni E delle E magari Delle consapevolezze No Attenzione a vincolare Questa struttura Questo volevo Richiamare Innanzitutto Rispetto a questa Intenzione Che Adesso Faceva la collega Volevo solo Evidenziare In questo Punto Cioè Forse Se non sbaglio Anche l'altra volta Era uscito E' importante Che la valutazione Poggi su delle Evidenze Cioè Che sia Documentata Però Attenzione a correre Il rischio Opposto Cioè Di pensare Che tutto Deva essere Documentato E tradotto In evidenze Io parto Dall'idea Che Cioè Mi sembra più corretto A parlare Di valutazione Come un processo Di rappresentazione Che si appoggia A sulle evidenze Però è un processo Di rappresentazione Capito Di valutazione 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 Grazie a tutti